Si è conclusa nell'incubatore TechNest dell'Università della Calabria la Tech Week, settimana di approfondimento intensivo che ha concorso alla individuazione dei 10 progetti finalisti per fare impresa fra 21 progetti di idee da realizzarsi in Calabria. Un banco di prova non dei più semplici per il team di aspiranti imprenditori della Star Cup Calabria 2013 organizzata da Calabria 9 e Università della Calabria. Oggi siamo qua perché ci sono i 20 team finalisti che dopo essere stati selezionati tra 66 gruppi di giovani che vogliono fare una start-up, vogliono fare gli imprenditori qua in Calabria, i 20 migliori hanno lavorato una settimana in maniera molto molto intensa e dura per mettere a posto il loro business plan. Oggi è la giornata finale in cui dovranno presentare il business plan a una commissione che sceglierà i 10 migliori, più interessanti progetti per il Tech Garage del 25 settembre. Un lavoro non da poco per la commissione giudicante a fronte anche di progetti tutti di ottima qualità. Come ogni anno abbiamo delle idee molto originali, il problema non è tanto la qualità dell'idea di impresa che in genere appartiene anche a settori abbastanza diversificati perché andiamo dalla realizzazione di macchine, quindi praticamente il manifatturiero, all'ICT che è un ambito in cui tipicamente creare nuova impresa è in qualche modo un processo più facile, più dinamico, in qualche modo con un mercato che si presta meglio a questo tipo di attività. Quindi il punto non è la qualità delle proposte come idee, il punto è se queste proposte riescono ad arrivare al mercato, cioè se sono appetibili. Appetibili per chi? Sostanzialmente per i finanziatori privati che decidono di investire. Questo tipo di percorso si differenzia da altri percorsi di creazione di impresa perché mira gli investitori privati e sono loro che bisogna interessare. In questo senso un'idea è matura quando qualcuno decide in qualche modo di rischiare sull'idea stessa. I dieci finalisti avranno accesso alla finale in programma il 25 settembre al Teatro Auditorium dell'Unical e che decreterà l'idea vincente che sarà scelta secondo parametri ben precisi. Abbiamo dei parametri molto rigidi, i ragazzi delle start-up hanno lavorato in questa settimana per preparare i loro progetti che presenteranno stamattina. Il primo parametro fondamentale è quello dell'innovatività. Noi andiamo a selezionare imprese potenziali, start-up ad alto contenuto innovativo, ad alto contenuto di tecnologia e di conoscenza e quindi è evidente che l'elemento dell'innovatività è il principale. Il secondo elemento fondamentale, siccome siamo qua per trovare imprese che facciano business, è la sostenibilità economica dell'idea di impresa. Non è sufficiente avere un contenuto scientifico importante, e alcune delle idee sono davvero straordinarie da questo punto di vista, ma chiediamo che siano sostenibili anche da un punto di vista economico per creare business. L'altro elemento fondamentale è quello della composizione della start-up, cioè la sostenibilità non è solo di tipo economico, ma anche in termini di competenze della compagine che ci viene presentata. Quindi non solo ricercatori, ma anche soggetti che siano in grado di essere già potenzialmente un'impresa anche in termini di soci e futuri della start-up.